A Pescara questa mattina il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha effettuato un sopralluogo presso gli immobili del Ministero della Difesa ubicati in Piazza Unione e alla Caserma Cocco, edifici che potrebbero essere riconvertiti e ceduti al comune di Pescara. Alla visita hanno partecipato anche il sindaco Marco Alessandrini, il vicenzo del Vecchio e i vertici militari dell'ispettorato Infrastrutture Esercito Sezione di Pescara. La visita odierna segue l'incontro che la settimana scorsa il sindaco Alessandrini aveva avuto a Roma con i vertici del Ministero della Difesa per l'eventuale cessione delle caserme di Cocco e di quella d'Avalos di Piazza Unione al comune in cambio di altri spazi che l'amministrazione si impegnerebbe poi a cedere all'esercito. E' bene che ci sia questo arricchimento attraverso il riuso, il recupero e l'intelligente destinazione di beni patrimoniali pubblici ieri dello Stato oggi messi a disposizione della collettività. Oggi mettiamo all'ordine nel giorno, all'interno di questa giornata, le mura della caserma di Cocco che già in passato grazie a nostre iniziative hanno permesso il passaggio di proprietà del parco. Adesso è la volta delle mura dell'edificio ma io qui voglio anticipare che d'intesa col Presidente della provincia stiamo anche determinando una nuova collocazione della sede dei Vigelfuoco perché è assurdo che una città così usata abbia nel centro della maggiore vitalità della città la sede dei Vigelfuoco che ha bisogno di scorrevolezza viaria e lì Vigelfuoco sono quasi concepiti per arrivare in ritardo o con difficoltà di viabilità. Anche su questo fronte procederemo ad una triangolazione per liberare un edificio che per quanto riguarda il mio punto di vista di cittadino penso che debba entrare a far parte del patrimonio destinato alla formazione dei saperi.